Buongiorno sono Giovanni Stracquadanio il business developer di Genomap. Genomap è una startup che ha sviluppato una soluzione che si basa sull'intelligenza artificiale per diagnosticare e rendere efficaci le terapie delle malattie rare. Siamo oggi qui alla Startup Week per presentare la nostra soluzione per trovare nuovi partner e potenziali finanziatori.